Speranza e coraggio. Ieri dicevamo che ci vuole coraggio a dire agli oppressi di oggi, non quelli di ieri, quelli di oggi che ci sono, che esistono, gli schiavi di oggi ci sono ancora. La schiavitù, che oltretutto non è stata sconfitta in tutto il mondo, non è solo quella classica, noi pensiamo, le persone che stanno sotto un padrone senza cuore. No, la schiavitù è anche quando io con il mio stile di vita, con uno stile di vita consumistico, egoistico, io rendo schiavi gli altri. Per esempio, c'è una nuova schiavitù, questa nuova schiavitù di cui ha parlato anche Papa Francesco nella Laudato Si, ma che noi facciamo finta di non aver ascoltato, ed è la schiavitù dallo sfruttamento dell'ambiente. Quante persone oggi, e ne sono tantissime, devono scappare dalla loro terra perché lo sfruttamento senza criterio, direi uno sfruttamento senza cuore dell'ambiente, ha provocato uno squilibrio tale che in quella terra, penso solo semplicemente, ma ci sono tante altre zone, alla fascia dell'Africa subsahariana, bene, lì lo squilibrio naturale, lo squilibrio ambientale ha provocato il capovolgimento della natura, ha provocato il capovolgimento della situazione climatica, fino a portare siccità. E siccità vuol dire non vita. Sono o non sono queste persone i nuovi schiavi, ma non di un fato, ma di stili di vita, di una società che sfrutta l'ambiente, uccidendo l'ambiente, non si rende conto che poi uccide se stessa, uccide le persone, uccide anche la speranza e il futuro per domani. Bene, noi siamo chiamati a testimoniare la speranza in questo contesto di morto, per dire che è possibile tornare indietro, che è possibile sconfiggere questa morte e ridare speranza attraverso un nuovo equilibrio, un nuovo stile di vita che ci porta a rispettare la natura, perché nel momento in cui noi violentiamo la natura, la natura prima o poi reagisce, violenta tra virgolette noi. E tutti ci lamentiamo, per esempio, del cambiamento climatico anche nella nostra Italia, in Europa, tutti ci lamentiamo delle alluvioni, dei danni, ma il vero problema è lo stile di vita, il come noi viviamo rispetto alla natura, rispetto all'ambiente. Sperare vuol dire lottare, alzare la voce. Sperare vuol dire assumere stili di vita, come potremmo dire con un termine moderno, ecocombatibili, stili di vita che vanno dalla vita familiare alla vita politica alla vita cittadina. Lottare vuol dire far comprendere all'economia e alla finanza che loro non sono i potenti del mondo è che il centro e il fondamento è la persona. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti!